Dopo aver accuratamente preparato la superficie come indicato nelle schede tecniche, applicare, a seconda della copertura necessaria, una o due mani di fondo murales diluito con il 20-30% di acqua potabile a distanza di 6 ore circa l'una dall'altra, con pennello, rullo o spruzzo. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS